Buongiorno a tutti, qua è il video del team Lil Barretto, siamo qua per presentare il nostro videogioco, l'ultima versione, incominciamo dall'inizio. Allora, per l'ennesima volta Gianni viene ricattato da Luca ed è costretto a dargli la merenda. Gianni non lo più più e decide di non fare nulla, oppure denunciare Luca contro le sue minacce. O sennò risolverla per quanto suo, la più ovvia secondo me è la seconda, e infatti è quella giusta. Andiamo avanti, dopo che Gianni ha accusato Luca e lui è stato punito dai professori, decide che è giunto il momento di passare alla seconda fase, deriverlo e prenderlo in giro in mezzo a tutti. Intanto vediamo, siamo appena passati su un barrucello. Gianni che ora è sempre sulla bocca di tutti, decide di, vediamo cosa vorrà fare Gianni, postare foto imbarazzanti di Luca sui social. Lasciare che Luca lo derita davanti a tutti, capire perché lo fa, tra queste tre sceglierai l'ultima, infatti è quella giusta. Siamo passati al deserto. Gianni che si è stufato dai minacci di Luca, intinto a, vediamo le due opzioni, qua sono due, picchiare Luca e fargli capire chi comanda. Non combattere ma cercare di avvicinarsi alla classe. Secondo me è la seconda, infatti è quella giusta. Allora, qua non ci sembra che ci siano domande, no? C'è soltanto una parte che bisogna superare. Ok, ok, qua vediamo teletrasportati, guarda. Ok. Gianni che è stato escluso dalla classe e Luca è felice di questo, ma Gianni fa amicizia con Luca e finirono per essere migliori amici. Non gli interessa perché è l'ultimo anno, io direi, ah, aspetta, trova una lingua da usare alla fine della mappa, un indizio si trova in alto. Beh, sarà sugli alberi. Proviamo, intanto c'è il panna. Proviamo a salire da qua. Speriamo che si trovi su quell'albero. Ok, no, qua non c'è, quindi si dovrà andare di qua. Proviamo ad andare di qua. Sembra che c'era una scaletta fatta apposta. Eccolo qua, infatti. Un pulsante, ok? Perfetto. Ora cadiamo e andiamo a cliccare quello che secondo me è quello più giusto che è famicizie con Luca e finirono per essere migliori amici. È quella giusta, perfetto. Siamo ritornati qua nella hub e qua c'è scritto qualcosa. Bonus. Attivabile solamente con un pulsante. Eccolo qua il pulsante. Proviamo a cliccare. Grazie per aver giocato. Scusate, non ho studiato il tedesco, quindi non lo so legge. Oh, perfetto. Il nome della squadra è una... Ok. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.